In occasione della presidenza italiana del G20, Forum dei Paesi delle Principali Economie Mondiali, Cooperazione e lo Sviluppo Sessione sull'Assistenza Umanitaria, che si terrà a Brindisi il 30 giugno 2021, si rendono necessarie, per ragioni di sicurezza, nuove misure. Tra queste ci sono diverse strade interdette al traffico, sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli ed esclusione degli autorizzati dalla Questura. Dalle 9 alle 18 del 30 giugno è vietato il sorvolo a tutto il traffico che vola a vista agli ultraleggeri, agli aeromobili, al pilotaggio remoto, con esclusione dei velevoli di stato e di soccorso, come spiega il comandante della Polizia Locale, Antonio Refice. Le limitazioni più pesanti ci saranno dal 30 a partire dalle 9, per quello che riguarda il tratto di strada tra la rotatoria degli ex vigili del fuoco, per intenderci l'inizio di via Ciciriello, e quel piccolo tratto fino a via del lavoro di via provinciale per San Vito. A partire dalle 11 e mezzo ci sarà la massima estensione dei divieti, che riguarderà un po' tutta via provinciale San Vito e via Ruggero De Simone, quindi via Ciciriello e via Ruggero De Simone, per andare poi verso l'aeroporto. Grazie a tutti.